Siamo nelle battute finali di questo lungo lavoro di squadra per attuare la riforma della geografia giudiziaria che ci vede tribunale accorpante del Tribunale di Sala Consilina. Ieri la commissione manutenzione è composta da me come Presidente dell'Ordine, dal Procuratore Capo, dal Presidente Zarrella, dal Sindaco Mitidiere e dal Cancelliere Dirigente, il Dottor Ferraro. Si è portata a Sala Consilina per rilevare i dati necessari che vanno trasmessi al Ministero per l'approvazione del progetto che dovrà partire immediatamente a seguito anche dei finanziamenti ricevuti dalla Regione Basilicata. Siamo stati accolti con cordialità, seppure ovviamente in particolare il foro di Sala Consilina e la classe impiegatizia aspettano la pronuncia della consulta nella speranza che vi sia una pronuncia di incostituzionalità del decreto di riscrittura della geografia giudiziale. Lago Negro continuerà il suo percorso nel rispetto della norma. Lago Negro Lago Negro Lago Negro Lago Negro Lago Negro